Oggi parliamo di un'altra proposizione, la proposizione dichiarativa. Ti ho messo qua la definizione, leggiamola insieme. La proposizione dichiarativa specifica il significato di un nome o di un pronome presente nella reggente, quindi di un elemento che è presente nella sua reggente. Perché ti ho messo la definizione? Perché è importante che tu la comprenda bene. Non è una proposizione difficile, non c'è mai nulla di difficile, però è una proposizione a cui bisogna dedicare un pochino di attenzione e capire bene qual è la sua funzione. Ma veniamo subito a un esempio, così ti sembrerà tutto più semplice. Questo ho capito, che devo studiare di più. Se noi facciamo l'analisi come ormai ha imparato a fare, andiamo alla ricerca subito dei predicati ho capito, devo studiare. Ti ricordi che devo studiare sembrano due voci verbali distinte, in realtà, devo è un verbo servile in questo caso e quindi devo studiare va tenuto tutto insieme. Due predicati, due proposizioni, stacchiamole subito. Ecco qua. Qual è la principale? Va sicuramente questa. sicuramente questa perché l'altra intanto comincia con un che e quindi sappiamo che non è possibile e poi perché certo non può stare da sola. Allora noi qua scriviamo principale. Questa che devo studiare di più sarà una subordinata di primo grado perché è subito dipendente dalla principale. Quindi in questo caso la principale è la sua reggente. Ricordati quello che abbiamo letto prima nella definizione. è esplicita. Io devo guardare il verbo devo, non devo guardare studiare. Allora il verbo dovere usato in modo servile richiede sempre l'infinito. In realtà devo è un presente indicativo. Quindi la mia subordinata è esplicita. Adesso capiamo qual è la sua funzione. Questo ho capito. Cioè che cosa? Che cos'è che ho capito? Ho capito questo. Che devo studiare di più. Allora questa proposizione non è altro che la specificazione. Cioè la spiegazione di un elemento, in questo caso questo, che è un pronome, presente nella reggente. Ho capito questo. Che devo studiare di più. E allora io la chiamo dichiarativa. È più chiaro così? Allora ho una principale che è la sua reggente. Nella reggente c'è un elemento che deve essere spiegato, che deve essere meglio specificato. E quindi questa proposizione non fa altro che specificare l'elemento presente nella reggente. Facciamo un altro esempio. Ho il sospetto che Pino sia consapevole di ciò che ha fatto. Prima di tutto dividiamo il periodo. Ho, sia consapevole, ha fatto. Io ho tre proposizioni. Ho il sospetto è una. Che Pino sia consapevole di ciò è un'altra. Che ha fatto? È facile perché ho il sospetto, è l'unica che può stare da sola ed è la mia principale. Le altre due cominciano con un che, per cui sicuramente sono delle subordinate. Vediamo. Ho il sospetto che Pino sia consapevole di ciò. Questa dipende direttamente dalla principale, quindi sarà una subordinata di primo grado. Di ciò che ha fatto. Vedi che in questo caso io proseguo con la mia scala e scendo di un gradino. Subordinata di secondo grado. Benissimo. Sia consapevole sia congiuntivo, quindi esplicita. Ha fatto indicativo e quindi esplicita. Adesso cerchiamo di capire qualcosa di più. Ho il sospetto. Ok, ma di che cosa ho il sospetto? Ho il sospetto che Pino sia consapevole di ciò. Questo è un secondo caso di dichiarativa. Cosa significa un secondo caso? Prima, nell'esempio che abbiamo visto prima, noi avevamo un elemento della reggente che andava spiegato. Anche qui io ho un elemento della reggente che deve essere spiegato. Cioè, che sospetto ho? Ho il sospetto di che cosa? Anche se in questo caso sembra meno evidente. Ma se tu ci fai attenzione, il sospetto è un nome e deve essere spiegato. Io devo capire qual è questo sospetto. Anzi, per aiutarti ti farò presente un'altra cosa. Il sospetto di cosa? Ma questa domanda non ti fa venire in mente la stessa domanda che ci si pone quando nell'analisi logica della frase si incontra un complemento di specificazione? Ed eccola la nostra specificazione. Ho il sospetto di che cosa? Che Pino sia consapevole di ciò. Se noi avessimo una frase semplice, scriveremmo Ho il sospetto della consapevolezza di Pino, della sua consapevolezza. Quindi, abbiamo detto che la dichiarativa specifica il significato di un elemento della sua reggente. In questo caso l'elemento è un nome, il sospetto. Il sospetto che Pino sia consapevole di ciò. Che ha fatto? Non l'abbiamo ancora visto. La lasciamo così. Quindi, potremmo dire che la proposizione dichiarativa è un po' l'equivalente del complemento di specificazione. Una volta che hai ben chiaro che cos'è una proposizione dichiarativa, non ti sarà difficile evitare di confonderti con soggettive e oggettive. Facciamo un altro esempio. Qui ti ho messo due frasi. Spero che domani non piova. Ho la speranza che domani non piova. Facciamo la nostra analisi. Spero, piova. Due proposizioni. Questa è la principale. Questa è la sua subordinata. Stessa cosa per la frase sotto. Ho la speranza. O è un predicato. Domani non piova. Piova è l'altro predicato. E questa è la principale. E questa è la mia secondaria. Ora osserviamo bene. Spero è la reggente di questa subordinata che è una subordinata di primo grado. Esplicita. Esaminiamo le due che abbiamo visto la volta scorsa. Soggettive e oggettive. Il trucco l'abbiamo imparato, no? Spero. C'è il soggetto qua. Sì, è un soggetto sottinteso. Io. Io spero. Quindi non ha bisogno di una proposizione che le faccia da soggetto. Via. Soggettiva, via. Spero. Che cosa spero? Che domani non piova. All'interno della sua reggente c'è già un complemento oggetto? No. Allora, questa è una oggettiva. Spero. Che cosa? Che domani non piova. È una proposizione che svolge la funzione di complemento oggetto della reggente. Passiamo a quella sotto. Ho la speranza principale. Che domani non piova. Guarda, è uguale. Te l'ho messo uguale apposta. È subito sotto. Quindi è una subordinata di primo grado. E' esplicita. Lo sapevamo già. Adesso veniamo al suo significato. Ho la speranza. Facciamo lo stesso lavoro di prima. C'è il soggetto qui? Sì. Io. Soggetto sottinteso. Io ho. Io ho che cosa? La speranza. La speranza è già un complemento oggetto. Ma allora io non solo non ho bisogno di una soggettiva. Non ho nemmeno bisogno di un'oggettiva. Perché il complemento oggetto io ce l'ho già qui. Questo è già il mio complemento oggetto. Quindi non ho bisogno di una proposizione oggettiva. Come era in questo primo caso. Che domani piova specifica di che cosa ho la speranza. Ho la speranza di che cosa? È che domani non piova. Quindi dichiarativa. Vedi che in questo modo se tu le prime volte ci perdi 30 secondi di più a fare attenzione alle parole e a chiederti se il complemento oggetto c'è già oppure no, è difficile poi sbagliare. Vediamo un altro esempio. Anzi, io fossi in te, bloccherei il video e proverei a farlo da solo sul mio quaderno. Vediamo adesso la correzione. La bidella mi ha risposto che dovevo rientrare in classe. La bidella mi ha risposto è una proposizione. Che dovevo rientrare in classe è la mia seconda proposizione. La bidella mi ha risposto è la principale. Subordinata di primo grado. Dovevo è all'indicativo. Tra l'altro, se ti ricordi, abbiamo detto che le esplicite sono introdotte dal che, quindi anche questa è una prova che stai facendo giusto. La bidella mi ha risposto... La bidella mi ha risposto... Che cosa mi ha risposto la bidella? All'interno della reggente c'è già il complemento oggetto? No! Attento, eh! Questo è un complemento di termine. La bidella ha risposto a me. Non è un complemento oggetto. E in effetti il complemento oggetto è svolto da questa proposizione. E quindi io avrò una subordinata di primo grado esplicita oggettiva. Adesso esaminiamo la seconda. La bidella mi ha dato questa risposta che dovevo rientrare in classe. Ha dato è un predicato, dovevo rientrare è lo stesso predicato di prima, quindi analizziamo. La bidella mi ha dato questa risposta è la principale. Che dovevo rientrare in classe, subordinata di primo grado esplicita. La bidella, soggetto, quindi il soggetto ce l'ho, mi ha dato che cosa questa risposta? Ecco qua, io ce l'ho già il complemento oggetto nella reggente. Quindi questa non potrà essere una oggettiva. Infatti, quale risposta mi ha dato la bidella? Che tipo di risposta mi ha dato? Che dovevo rientrare in classe. Ed ecco qua la mia dichiarativa. Quindi, per concludere, ti ho preparato uno schemino riassuntivo. Soggettiva. È la proposizione che fa da soggetto alla sua reggente. Attenzione perché nella reggente non deve esserci il soggetto. Oggettiva fa da complemento oggetto alla sua reggente. Attenzione anche qui, nella reggente non deve esserci il complemento oggetto. La dichiarativa invece specifica un elemento contenuto nella reggente. Abbiamo visto che questo elemento può essere un nome o un pronome. Cosa abbiamo imparato in questa lezione? Abbiamo imparato intanto che cos'è una proposizione dichiarativa. E poi come si distinguono queste tre proposizioni. E quali sono i ragionamenti da fare per non andare in confusione. Ti auguro buon lavoro e ti aspetto alla prossima.